16.000 metri quadrati, 3.200 dei quali dedicati alla ricerca e allo sviluppo, 30 milioni di dollari di investimento. ABB e Mobility ha inaugurato il suo più grande impianto di produzione di stazioni di ricariche in corrente continua in Italia e si trova a San Giovanni Valdarno. Sicuramente il Valdarno è un'area dove l'elettronica ha sempre avuto negli anni una grande importanza ed è su questo tessuto, quindi sulle persone che già lavoravano nel mondo di e-mobility negli anni precedenti abbiamo deciso di costruire le fondamenta di un nuovo stabilimento e quindi abbiamo scelto proprio nel Valdarno una posizione, una locazione che fosse sufficientemente vicina alle nostre risorse e che potesse fare leva su quelle che sono le competenze del territorio. Al suo interno viene anche realizzato Terra 360, la stazione di ricarica più rapida e potente in circolazione che dal sito del Valdarno raggiunge il mercato internazionale. Dovete vedere in questo grosso quadro elettrico quella che è oggi la più veloce e potente colonina di ricarica in corrente continua. Di fatto con questa colonina si riescono a ricaricare circa 100 km in 3 minuti. Circa 10.000 quelle che vedranno la luce ogni anno. Per noi oggi è una giornata molto importante e userei dire quasi storica perché a San Giovanni Valdarno un insediamento produttivo di questa qualità e di queste dimensioni non si vedeva veramente da molti decenni. Siamo contentissimi che l'area di Sant'Andrea finalmente decolli, diventata, lo potete vedere tutti, l'area produttiva di San Giovanni Valdarno e questo grazie a ABB perché ovviamente ne occupa la parte più consistente. Oltretutto è uno stabilimento di produzione ma anche di ricerca e sviluppo nell'ambito di una produzione green, ecologica, sostenibile di cui siamo particolarmente orgogliosi.